salve a tutti i miei cari amici di infiniti games eccoci qui con un nuovo tutorial dedicato a planet zoo allora ragazzi questo tutorial lo dedichiamo esclusivamente alla realizzazione di un habitat specifico per un determinato animale quindi cerchiamo un attimino di fare il punto della situazione io ho realizzato già diversi tutorial che troverete sul mio canale vi invito assolutamente di andarli a vedere almeno per avere un infarinatura generale di quelle che appunto sono tutte le impostazioni di gioco le interfacce di gioco ho spiegato anche come realizzare e modificare il terreno e i sentieri e ragazzi soprattutto come gestire le strutture sia le strutture dedicate allo staff quindi veterinario custode inserviente sicurezza e quant'altro e tutte quelle strutture invece dedicate esclusivamente ai visitatori ok quindi negozi punti di informazione i bagni e così via quindi ragazzi dedichiamoci adesso ecco al punto principale no di questo gioco al fulcro di questo gioco la realizzazione dell'habitat che può sembrare semplice ma non è per niente semplice ragazzi allora innanzitutto dobbiamo decidere che tipo di animale vorremmo mostrare all'interno dello zoo andiamo qui su zoopedia dove ci verranno mostrati qui a sinistra l'elenco di tutti gli animali disponibili all'interno del gioco ok ora scegliamone uno pigliamo il leone scegliamo il leone allora cliccandoci sopra ragazzi io già l'ho spiegato nel tutorial precedente questo possiamo vedere le informazioni generali ok l'habitat naturale dove è importantissimo perché spiega il tipo di continente la regione dedicato in quel continente il bioma in questo caso è prateria e tutte le esigenze minime dell'habitat che tanto minime non sono perché parliamo di un animale che desidera per non essere stressato per il benessere totale dell'animale vuole un terreno richiesto di 705 metri quadri quindi noi dobbiamo andare a realizzare una recensione che sia almeno di 705 metri quadri per quanto riguarda l'acqua come vedete non lo richiede ma se ce lo volete inserire quindi un bacino d'acqua un piccolo corso d'acqua all'interno del vostro habitat non fa male ok per quanto riguardo invece gli alimenti di arrampicata richiesta qua non vuole assolutamente nulla ok non richiede nulla e la temperatura richiesta anche un fattore importante ragazzi perché ogni animale è vive bene nel suo proprio habitat appunto grazie anche alla temperatura poi qui sotto dovete sempre tenere presente il tipo di recensione che ci vuole quindi grado 3 di resistenza a prova di arrampicata e deve essere almeno di 3 metri d'altezza ok queste sono le prime informazioni impatto poi dati specifici possiamo vedere quali sono i dati ecco di questa specie animale e quindi vi va un po a parlare di tutto quello che riguarda il quadro generale dell'animale ok lo stato di ricerca che vedremo tra un attimo e dotazioni tra specie che vuol dire vuol dire che ci sono anche animali che possono andar bene in una diciamo pacifica convivenza cioè possono vivere nello stesso habitat ma come possiamo vedere non ha assolutamente non tra i benefici condividendo il proprio habitat con altri animali quindi abbiamo scelto il leone senegalese abbiamo visto che il bioma è la prateria e che deve avere a meno un terreno richiesto di 705 metri quadri andiamo a realizzarlo prima di tutto ragazzi dovete tenere presente che ogni tipo di habitat deve avere delle strutture dello staff dedicate come la stanza dello staff quella del custode e io ci inserirei anche altri due fattori importanti che sono il centro di ricerca e il centro di scambio ok quindi iniziamo la nostra recensione qui come possiamo vedere ragazzi ci sono tutti i tipi di recensioni ora richiede un grado di potenza 3 quindi resistenza 3 quindi cosa ci possiamo mettere io opterei per un cemento arriviamo a pure 3 metri e 50 va bene così abbondiamo senza avere problemi ecco qui e iniziamo a realizzare il nostro habitat ovviamente ragazzi se volete delle parti chiuse utilizzare direttamente queste qui che sono chiuse quindi il cemento oppure il mattone rosso o il gabbione ma ovviamente potete anche utilizzare altri tipi di recinti che di recensioni ragazzi però che dovete stare attenti che non siano appunto scalabili perché un leone può scalare tranquillamente un tipo di recensione quindi se vogliamo una rete d'acciaio come possiamo vedere qua ci dice che il grado di resistenza è 4 quindi andrebbe anche bene però semitrasparente scalabile quindi non va bene questo qui anche scalabile nulla sembrerà se non scalabile questo qui per esempio non è scalabile un grado di resistenza 3 però ragazzi grado di resistenza 6 però è elettrico quindi ha bisogno di una fonte di elettricità vicino alla recensione quindi andiamo inserirlo facciamolo non proprio ecco la forma geometrica riconoscibile ma creiamo l'abitato quanto più naturale possibile una volta che abbiamo realizzato questo possiamo andare qui quindi clicchiamo ah no non possiamo farlo perché dobbiamo prima mettere la nostra bella il nostro bel cancello ce lo andiamo inserire ragazzi ok e lo colleghiamo appunto alla strada una volta fatto questo possiamo chiudere tutto cliccare una sola volta su un qualunque punto della recensione e ci aprirà un pannello dove ci spiega un po in linea generale che cosa abbiamo creato quindi la pulizia lo stato recensione ovviamente adesso è nuovo ragazzi e possiamo andare sul terreno per vedere la superficie del terreno addirittura di 2508 quindi è il triplo di quello richiesto per il leone ma va bene così e qui tutto quello che c'è all'interno del nostro habitat come terreno quindi sabbia terra rocce e così via ma lo andremo a vedere tra un attimo ambiente abbiamo detto che noi preferiamo la prateria quindi ci clicchiamo sopra qualsiasi continente ci troviamo in africa quindi fermiamoci un attimo e torniamo al nostro habitat ora per farci per far facilitarci la vita ok all'interno della realizzazione nostro habitat andiamo a impostare dei filtri natura filtri bioma prateria ok e lasciamo così poi andiamo su habitat sempre filtri specie e ci andiamo a scegliere il nostro bel leone senegalese eccolo qui ora cosa abbiamo fatto abbiamo detto in pratica al gioco guarda dammi solo tutto ciò che deve essere in dotazione dell'animale leone ok quindi partiamo dai rifugi andiamoci a mettere dei bei rifugi mettiamocene uno per il momento questo è anche abbastanza grande ce lo inseriamo ma non basta all'interno dobbiamo creare appunto un qualche cosa per dormire quindi dei giacigli e andiamo su extra large o in base al vostro tipo di struttura che avete no quindi ce lo andiamo a creare perfetto fatto questo ragazzi incominciamo a dedicarci a tutto ciò che riguarda appunto il benessere dell'animale quindi contenitori di cibo dipende quanti esemplari io ad esempio ne metto almeno 4 quindi non fa mai paura abbondare per quanto riguarda acqua e cibo ragazzi in modo che l'animale si sente anche a proprio agio per quanto riguarda il cibarsi e l'abbeverarsi andiamo su dotazioni e iniziamo a vedere dotazioni alimentari quindi cominciamo a realizzare una cosa del genere mettiamoli un paio un paio di giochini una zucca congelata che fa sempre bene ragazzi vi consiglio di mettere questi tipi di dotazioni vicino alla recensione perché è buono per far vedere meglio al visitatore ciò che stanno appunto osservando quindi leone si avvicinerà alla recensione dove appunto i visitatori potranno poterne meglio la vista giocattoli andiamo a mettere qualche tipo di giocattolo sangue addirittura ragazzi vedete odore di sangue quindi magari possiamo far avvicinare l'animale alla nostra recensione in modo da far stare tutti più contenti mettiamoci un paio di giochini scalabili ragazzi in questo caso anche se non ce lo diceva all'interno della zopedia noi ce lo possiamo inserire lo stesso e magari fa anche bene all'animale non guasta assolutamente quindi magari ce ne mettiamo un paio uno di questo e ci mettiamo anche uno di questo ovviamente ragazzi voi potete fare la grandezza del vostro habitat lo potete scegliere come quando volete senza nessun problema quindi adesso vi sto facendo vedere in linea generale come realizzare una recensione ideale fatto questo ragazzi non ci resta altro che andare su scambio animali specie scegliamo il nostro bel leone e prendiamo questi quattro che ci sono vedete andiamo sul deposito animali li selezioniamo tutti invia lo zoo e ci clicchiamo ora calma fatto questo ovviamente io sto in pausa dobbiamo andare anche a assumere qualcuno dello staff che appunto si possa prendere cura di questi animali quindi andiamo qui su zoo staff inserviente che sono coloro che poi tra l'altro recuperano gli animali se scappano li vanno a prendere nel centro di scambio per portarlo all'interno dell'habitat quindi sono fondamentali ci mettiamo anche un meccanico nel caso di guasto di qualche cosa ci andiamo a inserire anche due veterinari ok e ragazzi in realtà dovremmo poi andare a dire vicino a questi nostri dipendenti che tipo di habitat devono prendersi cura ma ho notato giocando che basta che inserite la giusta quantità di giusto quantitativo no di persone che appunto riguarda lo staff vicino alla recensione in automatico loro si prendono cura tranquillamente di quella recensione quindi senza andare troppo nel dettaglio che magari non ci capiamo più niente a questo punto clicchiamo su play e diamo la possibilità a tutti coloro che appunto abbiamo assunto di andare a recuperare i nostri leoni e portarli all'interno dell'habitat quindi vediamo un attimino guardate cosa fanno sono entrate all'interno del centro di scambio prendono i nostri bei animali e li vanno a portare addirittura correndo li vanno a portare all'interno della recensione eccoli qui ragazzi ora aspettiamo che escono gli inservienti chiudono la porta e io vi consiglio di mettere un attimo in pausa clicchiamo su un de leone qualsiasi un leone qualsiasi e iniziamo a vedere cosa di cosa hanno bisogno questi animali terreno come possiamo vedere ci sono alcune alcuni parametri che sono in rosso e non devono essere rosso assolutamente mentre quelli in verde invece si vanno bene ma la vedete all'interno questa piccola striscia bianca e per dire guarda tu fino alla fine di questa striscia bianca può inserire questo tipo di pianto questo tipo di te scusate pianti questo tipo di terreno ok al di fuori diventa rosso e infatti l'erba lunga vedete è rosso la pietra non ce n'è proprio quindi cosa andiamo a fare andiamo a aggiungere un tipo di terreno o dei tipi di terreno fino a quando questi parametri non saranno completamente perfetti quindi l'erba è troppa l'erba lunga ok inseriamo un po di erba corta vedete come aumentano i parametri a sinistra e diminuiscono quelli che sono in eccesso ecco fatto fermiamoci un attimo c'è ancora troppa erba lunga lo vorrei portare quasi a metà quindi inseriamo un po di pietra magari inseriamo qui dove ci sono queste due azioni vedete e un po di terra magari la mettiamo qui ecco qui ragazzi vuol dire che adesso il nostro animale aggiungiamo per un po di sabbia così è perfetto il nostro animale per quanto riguarda il terreno starà benissimo ma manca qualcosa cioè l'ambiente allora ragazzi noi qui possiamo inserire tutti i tipi di piante che vogliamo ma ovviamente mettere quelle giuste vuol dire far star bene l'animale quindi vedete questo è rosso questa betula se io vedo è completamente inidonia all'animale quindi come dice rimuovi questa specie di pianta e la rimuovo ma dobbiamo andarcela inserire in realtà il leone come qua vedete piante 100% non richiede proprio chissà che tipo di piante ma è importante la copertura perché l'animale vuole coperture quindi dobbiamo andare su natura abbiamo già inserito il nostro filtro sul bioma prateria e vedete che qui ci sono soltanto tutte le piante dedicate appunto a quel tipo di habitat che è la prateria ora dobbiamo andare a vedere quale potrebbe andare bene voi guardate a sinistra vedete scende qui ed è rosso quindi la vado a togliere scegliamone un'altra prendiamo questo ad esempio è questo si è buono occupa tanto però è ottimo qua rimane il 100% la copertura invece aumenta vedete mettiamole un'altra va troppo ci dice che è troppo quindi in automatico eliminiamola ritorniamo sul nostro bel leoncino e andiamo di nuovo su piante proviamo ad aggiungere qualche altra cosa ad esempio questo ok già è qualcosa però si è scesa al 90% vedete dovete un po giocare sotto questo punto di vista per quale tipi di piante volete inserire all'interno appunto del vostro habitat per far star bene l'animale diciamo che comunque la striscia bianca è questa quindi se io voglio togliere questo ad esempio e clicco sull'animale vado su pianta vediamo che comunque l'animale sta bene se voi invece superate la copertura vuol dire che l'animale appunto non si troverebbe a suo agio ora proviamo a vedere la temperatura e andiamo a vedere innanzitutto se sta bene a livello di temperatura vabbè popolazione socialità questo non ci interessa ok 100% anche qui io direi che l'animale sta più che bene è pure ferito addirittura ma questo lo vedremo ora andiamo su play e vediamo un po come si comporta il nostro animale vedo che sta tutto verde tutto quasi al 100% quindi ora ragazzi abbiamo visto che c'è un animale che è ferito ok quindi andiamo a trovarci il nostro bell'animale ferito prima l'ho visto eccolo qua andiamo qui chiamiamo il veterinario automaticamente il veterinario vedete che corre arriverà immediatamente dall'animale lo impacchetterà per bene e con l'aiuto del custodio appunto cercheranno di curare l'animale ecco che l'hanno messo all'interno della cassa e il veterinario non deve fare altro che portarlo all'interno del centro veterinario cioè questo qui per questo le strutture importanti devono essere sempre vicino all'habitat per velocizzare le pratiche di cura di ricerca di quant'altro importante ragazzi adesso che abbiamo realizzato questo habitat dove ci sta il leone possiamo andare di nuovo su zoo e andare a vedere dare uno sguardo ok alla ricerca di veterinaria quindi cliccando qui vediamo che ci sono queste due malattie da dover tenere sotto controllo e una ricerca avanzata sul nostro esemplare quindi teniamo premuto sopra il primo veterinario e clicchiamo sulla prima malattia clicchiamo sulla seconda e andiamo sul leone in automatico ragazzi cominceranno queste ricerche importantissime per quanto riguarda sia le malattie che per quanto riguarda appunto il leone questo lo dovete fare ragazzi per ogni tipo di animale stare sempre attenti al tipo di malattia quindi ragazzi cosa dire ovviamente per far sì che i nostri visitatori possono potere del nostro bell'animale inserito andiamo a mettere tutto il nostro sentiero lungo tutta la recensione e se volete poi a un certo punto che appunto vi trovate qui adesso no vicino alla parte dove è possibile osservare l'animale andiamo su impostazioni qui e aggancia alla recensione cliccandoci vedremo come in automatico il nostro bel sentiero sarà appoggiato completamente alla recensione per far sì che appunto possano i visitatori godere al meglio del nostro animale quindi vi consiglio di tenere sotto controllo questa impostazione ecco qui e andiamo ad agganciarla alla fine al sentiero principale ecco qui il nostro habitat ragazzi niente di più semplice dovete solo giocare un poco sui parametri per quanto riguarda le piante il tipo di terreno una volta fatto questo basta inserire vi ricordo il filtro su natura del vostro bioma dell'animale che troverete all'interno di zoopedia e nell'habitat andare a specificare di che tipo animale stiamo trattando quindi il leone in questo caso si va su specie e si inserisce il tipo di animale ok ragazzi beh io spero di avervi detto tutto anzi penso proprio di avervi detto tutto quindi posso concludere qui questo tutorial dedicato esclusivamente agli habitat magari ne faremo un altro dove andremo un po più nel dettaglio per quanto riguarda quegli abiti di habitat un po complicati come ad esempio quelli di di habitat dove possono convivere più specie e habitat con il bioma marino come coccodrillo come eppopotamo o come il varano del nilo quindi magari andare un po più diciamo nel dettaglio di quei tipi di habitat che sono anche abbastanza complessi magari per cui bisogna aggiungere un certo quantitativo d'acqua e quant'altro quindi questi sono gli habitat base che è possibile realizzare senza nessun tipo di problema importante ragazzi quando avete realizzato il vostro habitat e vedete che il vostro animale sta bene e volete salvare questo tipo di habitat perché magari volete ricreare un altro zoo dove però volete già l'habitat bello è fatto allora basta andare sulla vostra recensione vedete che ve la seleziona tutta andate qui giù su salva progetto vedete io adesso già ne ho realizzati diversi ok durante il gioco faccio un nuovo progetto inserisco il nome del nostro habitat inserisco una descrizione che sono obbligatori quindi inseriamo una descrizione un titolo scegliamo il tag cioè in che zona delle nostre impostazioni vogliamo che queste queste cose che noi stiamo salvando vengono appunto attivate io vado sempre sulla zona habitat quindi inserisco habitat finito tutto faccio crea progetto io non lo faccio perché ovviamente già li tengo realizzati posso anche vedere come fare visualizzare la nostra icona all'interno del dell'habitat quindi la voglio così faccio crea progetto e vado avanti quindi di conseguenza quello che ho salvato me lo vado a trovare in habitat e vedete che sono tutti qui aspettate leviamo i filtri eccoli qua vedete quindi vi andate a prendere quello che magari avete salvato io per esempio ho fatto già quello del leone senegalese in un altro tutorial in un altro video ed eccolo qui che me lo vado a impostare ovviamente ragazzi dovete tenere presente che in base a come lo real dove lo realizzate ragazzi vi trovate in una situazione di dislivello ad esempio se io realizzo adesso questo qui vedete mi ha realizzato già ma che non si vede nulla madonna ecco qua mi ha realizzato già tutto bello e fatto così come io l'ho realizzato e all'interno del muzzo che ho creato che poi vi farò vedere all'interno di un gameplay che porterò a parte vedete basta soltanto poi inserire l'acqua quindi terreno acqua ce lo andiamo a mettere bellino bellina e andiamo appunto poi acquistare i nostri animali e a inserire all'interno del nostro habitat ok ragazzi questo lo potete fare tranquillamente ed è molto utile casomai giocate spesso realizzando vi divertite realizzando nuovi tutorial nuovi soffistato costi tutorial realizzare nuovi zoo e quindi in automatico voi vi tenete già belli e fatti dovete soltanto inserire all'interno del vostro scenario quindi ragazzi detto questo ho detto veramente tutto spero che sia stato utile che in qualche modo appunto vi possa servire durante il vostro gioco durante il vostro la vostra avventura all'interno di planet zoo e niente ragazzi vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella in modo da restare sempre aggiornato sia sui prossimi tutorial che sui prossimi titoli che porterò appunto sul mio canale e niente ragazzi volevo anche apro e chiudo parentesi ringraziare tutti coloro che si stanno iscrivendo al canale mi fa davvero piacere ogni giorno arrivano due tre iscrizioni in più mi fa veramente piacere vuol dire che a questo punto il canale sta dando qualcosa a voi e quello è lo scopo del mio canale è quello appunto di dare il meglio all'interno di questo mondo che appunto è il mondo videoludico quindi ragazzi detto questo da infiniti games è tutto noi ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale ciao a tutti